La sera del giorno martedì, martedì 19 settembre 2023, dal borgo più abbandonato, più alto della montagna, in un luogo solitario, ora il mio frammento di vita si trova in un luogo cittadino, dove io stesso appartengo ad un altro mondo, dove sono consapevole che quel grattacielo nuovo di fronte me, ogni sera della settimana, ogni giorno cambia colore, dal verde diventa azzurro, poi rosso, acido, ogni giorno della settimana cambia colore, sono qua a vedere questa oscurità illuminata dalle punte dei grattacieli, illuminata dal percorso vitale che l'esistenza in 40 anni ha cambiato la zona di Porta Garibaldi, zona isola, è diventata così bella, questi giardinetti che io mi trovo tuttora e spesse volte medito, rifletto la mia vita, che se io fossi in questo momento in un borgo montano, dove ci sono quattro case di sasso, la mia interiorità potrebbe cambiare e in quel momento potrei pensare, non sono in Piazza Golenti, sono in un borgo abbandonato, dove il mio io vive lo stesso, perché Aldo è così pieno di introspezione, si può dire di interiorità che ogni pensiero che vola nella sua testa, rimane poi consapevole nel suo io, sapendo di esistere in un mondo dove la percorribilità dell'esistenza umana cambia secondo l'habitat circostante, io vivo, vivo in questo habitat stasera, ora sono io, ad impadronirmi dell'entrata, si può dire di questo grattacielo denominato Bosco Verticale, ecco che apro la porta e tra poco entro in sala d'attesa dove appaio seduto, lì in quella portineria, ad aspettare una persona che io conosco, sono qua in sala d'attesa, l'entrata della portineria alta tre piani, con quei bei lampadari, ma più su, più su dove voglio guardare, è questo bosco verticale che è illuminato nelle ore notturne, dove la guardia percorre la curiosità notturna, la guardia notturna, sì, ma sotto qua c'è una cantina palestra e una piscina dove ogni persona che abita in questo bosco verticale può frequentare quell'ambiente, pagando naturalmente le spese esagerate, esagerate, devo dire le spese necessarie al mese per contribuire ad essere un inquilino del Bosco Verticale, ma guardate che bello, ciò che mi circonda sono io, me stesso che mi illumino della mia mente per essere illuminato dalle persone che abitano qui, che sono però assenti nel mio io, sono forestieri, mentre in un piccolo borgo tutti ci conosciamo, ogni mondo, ogni uomo in un piccolo borgo è un mondo, qui no, qui diventa un codice della società, dove al citofono esiste solo un numero per chiamarlo, Aldo, Aldo.